amici siamo tornati sempre io e mio figlio saluta mio figlio non vuole salutare perché non vuoi salutare i nostri amici dolce che è questo nuovo stumble guys scuoti dieci gemme no dieci gemme vediamo se puoi fare qualcosa io non lo vedo io mica sono come te che gioco su stumble guys non potremmo toccare il colore vero dei palesi e dopo non possiamo do e adesso facciamo tutti ti faccio un trick te che mi fai? ecco te eh ti immagini ti immagino ha detto un po' no non è più inizio ce l'ho in giardoppione converti niente è finito dadis che hai dadis? ma? ah no è questo vedi qui non c'è niente allora perché non c'è via? papà ma devi riscattare una missione ecco te la mission ok oggi però devi sbloccare i 50 gemme hai capito? ti mancano gemme ok ti immagino capito? chi gioca un amico? quel nerdo? no no vediamo vediamo chi posso togliere che non gioca mai con noi questo non gioca mai con noi min box sai chi è? allora ragazzi intanto innanzitutto si è fatto tardi questa sera cosa è brutta questa skill che c'è? eh papà cambiala e infatti dove la cambia? adesso è ninja e infatti vuole metti ninja come altro papà però devi arrivare almeno a 100 stelle devi arrivare eh 100 stelle che coppa mi ha? eh così almeno arrivi quasi alle 700 quasi eh quasi 900 690 arrivi alle gemme tu dici? eh alle gemme perché? non lo so beh ecco che è successo no è che gli ostacoli non sono ancora attivati quindi diciamo di prima che dici via gli ostacoli non sono attivati e che ce ne ha fai male? no ma qui ci sono veloci forse tu dove vai verso no tu dove mi uscire ragazzi no mi coli vido mi qualifico tutti guarda dove ballo balla tu ci ballassi ma carriera dimmi che mi qualifico dove stai? no non sei qualificato dove stai? dove stai? vuoi fare un casino è bravo si non lo so ma questo qua mi rimanda sempre mi rimanda sempre hai detto basta hai fatto troppe volte super slide dai fatemi largo no è già cascato ragazzi mi sa che non mi palisco dai andiamo veloce andiamo veloce vai papà non mi qualifico papà come ti dici? ma ti faccio la bocca eh ma è vedi è più sapice di dire 1 2 3 no 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 che cavolo guarda eh sì è più sapice di dire 1 2 3 e quindi i due 20 10 21 20 20 20 20 vediamo che cosa capita in fine finale oh ciao non potevi vincere sì 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 poteva vincere mio figlio qua e ne dite voi facciaci un balletto balla balla sim carina clelia 89 che sta aspettando no è caduto arrivano 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 solo i più squali esplosivi vediamo 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 ragazzi fino adesso ho tre eliminati soltanto ragazzi sempre si fa sempre difficile mamma mia aiuta papi aiuta siamo rimasti oh dio aiuta oh no siamo rimasti tre papà ma rispettatevi aiuto papi 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 oh no lo squalo sta in altesa nooo aiuta nooo aiuto oh 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 no no ho 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 perso fai il per due ma che meraviglia metterlo no c'ho c'ho un online c'ho il sito a un pelo per ragazzi cosa c'è della scuola cosa ci dite nella scuola mi piace no io sono una partita molto lunga ciao ragazzi eccomi io saltoso salta 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 no ma che ha fatto mi è andato indietro ma che scemo dove state il mezzo ghiaccio ma che cagata basta abbandonati abbandonati ma che posso vedere una cosa di genere hai portato sfortuna ok qui va bene non dobbiamo non dobbiamo tu non sei facile da partita io no qui toccare il colore viola è più easy di te cioè qui non ce n'è manco il colore viola allora due due missioni due missioni uno riscatta ok per poco togliamo degli amici ragazzi nato nathan eddy non lo conoscevamo ci abbiamo giocato insieme nick so ci ha giocato qualche volta questo non ci ha giocato mai pongo ci ha giocato proti rex proti rex non si collega più oh finalmente oh ma non sei morta eh mi senti colipi che ti ammazzo oh che è questa parola è questa ma devo in finale oh mori oh che dici e devo morire ma come oh finalmente firnello o chi è firnello io che ne so ma che ne so io manco è il tuo amico firnello è finito ah ma hai vinto aspetta ma qui non l'ho già fatto vabbè dai su ah devo cambiare la skin non cambia giusto fa schifo questa skin è proprio a chi mi stai invitando di aspettare ah io sono ecco che sono sono ricercatore ma è ticchino esploratore perché gli altri non si collegano ma gli altri amici tuoi ah bo bo che hanno paura di perdere ah no hanno paura di perdere sapete che a mio figlio gli ho fatto la riga eh gli ho fatto la riga in testa la riga si lo portate a tagliare i capelli e poi gli ho fatto la riga ah ah e no allora hai preso un righello me l'hai messo in faccia così mi spazzo la riga ma è tess e la fronte e la cassa oh ma e non possiamo toccare il colore viola quindi qui è praticamente impossibile toccare il colore viola oh l'abbiamo già toccato scusco Mario guarda guarda l'abbiamo già toccato con la ragione a me mh 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 ts mh 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 mamma mia mi pare un'emozione il colore i confronti uh la funzione altrimenti tutte le montanze il colore si mette il cilindro sopra il cappello grande mamma mia guarda, balla così, balla così, come c'è un movimento di bacino guardate, balla così, guarda i tromboverdi ma si è arrivato, oh che mi è tirato? sono stato a spettare mezz'ora, sono stato a spettare, quegli amici che ci guardavano dicevano quando finisce la partita, stavano a ballare che cazzo è, che cazzo è, è caduto tutto, hai visto? che cazzo è, ecco ragazzi allora, spieghi, oh wow non ne faccio niente cazzo è tutto allora, fatemi passare un po' come vedrai più facile ooo, 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 o si è caduto il mio figlio oh guarda papà non ci sono più le righe hai visto? ma io sono un ragazzo sì ciao ragazzi mio figlio è caduto duvidino è caduto l'altra volta io ti vedo ragazzi ti vedo da qua guarda guarda ti vedo da qua dove sto ballando accade mio figlio ma non si qualifica tutto un pezzo non si qualifica ma te che stanno arrivando papà oh è davvero ciao ora guarda ora cade tutto l'infermiera cade per terra è finito il round hai visto? e non è caduto niente è caduto niente e non c'era il timer ma è tutto lo stesso la partita non ha senso il Stumbleguest proprio non ha senso ah Dio ragazzi non c'è un sacco di base ragazzi ragazzi tu sei proprio alla fine non c'è un sacco di base non c'è un sacco di base guarda l'anziano come vince era la finale no non era la finale ho preso pure le gambe pensavo di non farcela poi ho visto un certo mio figlio mio figlio ha fatto la corsa della lepre è arrivato quasi a traguardo poi si è addormentato io la tartaruga e l'anziano in questo caso piano piano è arrivato e ha vinto la mattina ma c'è pure Pongo eh c'è Pongo ciao Pongo saluta ciao Pongo ho visto qua i gianchi hanno gli occhiali da sole caspita pinguino piccino carino ma tanto non ti serve perché ti bambi ti ho perso io stesso oh poveretto mi scuola c'è io io guardo sempre la natura non c'è perché non cambi di strategia scusa perché si ma cambiamo oh no ma non c'è ma non c'è più il coso guarda che bel tramonto guardiamo c'è pure un balletto ballati sì ballati sì ma carina liro 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 che stai a dire ma 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 state sentite balla la macarena balla balla la macarena ole e che ti posso fare dove stai tu eccoli dai papà dai ma perché dai papà dai no papà non ti qualifichi veramente dai dai papà dai dai se vuoi inviare no 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 hai perso in diretta metti un secondo in pausa metti in pausa la perdo subito e metti un secondo in pausa come faccio a mettere pausa metti in pausa se tu perdi mica è colpa del gioco no 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 Ponga l'ha perso Ponga l'ha perso Ponga l'ha perso Guarda che finale Nooo Mi posso buttare dalla matta Ré papà ora io gioco a te pongo ci sta dai siamo con pongo dai papà però non fare papà ora gioco sia la nintendo no 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 non giocavi la propria niente io ora è l'ultima partita che sono le 10 meno 10 no no 10 meno 10 sono le penultime no abbiamo questa è la quinta partita ragazzi che non vince la partita perché pensi che non è rapinare papà io non li sapevo ma come ne li sapevi ti sta attento papà papà non puoi ci no sei stato un po' distrattito vabbè se non sbagli non impari lo sai papà ma che mamma no sei caduto papà no dove stai? no ecco già probabilmente non vai tipo in me dai ragazzi la finale mio figlio è svantato ci è rimasto male ma che dobbiamo fare una volta on and hop non credo di farcela così facilmente come prima grande grande ragazzi vi lascio con questa vittoria ciao a tutti ciao